Sì, io mi occupo da tantissimi anni di banca assicurazione, da 1994, è un business cresciuto negli anni, prima con la grande sviluppo della banca assicurazione vita, negli ultimi anni con quello della banca assicurazione danni, ma credo che avrà ancora un grande futuro perché è un business fondamentale per il futuro delle banche, non solo delle assicurazioni.